Un borsone con all'interno 4 involucri di cellophane contenenti marijuana per un totale di 30 kg sono stati ritrovati poche ore fa dalla squadra mobile di Brindisi tra gli scogli della costa nei pressi di Specchiolla. Gli investigatori sono stati avvisati da una persona che passeggiando aveva notato un grande borsone da viaggio dal quale fuoriusciva un involucro di cellophane con all'interno qualcosa di scuro. Allarmato ha avvisato la polizia che ha circoscritto la zona che si trova nella marina di Carovigno e verificato il borsone sospetto. Con l'intervento della sezione specializzata antidroghe è stato confermato che il contenuto degli involucri era marijuana. Sequestrati i pacchi dal bagnasciuga sono stati trasportati in questura dove con l'aiuto di personale della polizia scientifica è stato tolto ogni dubbio sul tipo di sostanza stupefacente, cioè cannabis. Gli involucri recuperati e contenuti nel borsone erano quattro e di varie dimensioni a peso. La sostanza in totale ammontava ad oltre 30 chili. Si tratta dell'ennesimo rinvenimento di fogotti di marijuana sulle spiagge della provincia Brindisina, il che evidenzia la rilevanza del fenomeno del traffico e spaccio di queste sostanze sempre più diffuse soprattutto tra i giovani anche per il basso costo con cui vengono smerciate. Dall'inizio dell'anno la squadra mobile in merito allo specifico settore della marijuana ha tratto in arresto tra corrieri della droga e spacciatori al minuto di questa sostanza ben otto persone e scoperto e denunciato in stato di libertà altre quattro. Complessivamente la marijuana sequestrata supera i 620 chili.